Ciao ragazzi bentorni in questo nuovissimo video, io sono MicimenoFeggi e oggi faremo un bozzo per questa volta 15 casse Andiamo ad aprirle Prima cassa Apriamo? Niente Seconda cassa Un saltello? Vai! Niente Terza cassa Per favore? Bonus? Vabbè Andiamo al progettone Quarta cassa Per favore? Niente Mi sa che qua non troviamo niente Quinta cassa Per favore? Niente Cesta cassa Per favore? Niente, 99 monete Niente Presore Niente È pure racchiato Intanto niente 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 Per favore? Prima fa tre sottelli Con il naso? Niente Col comito? Con l'orecchio Con l'orecchio Niente Penultima cassa Niente tanto Ultima cassa Per favore Prosterzo Voglio almeno un brawler Per favore Per favore Queste 15 casse Per favore Niente 3197 monete Ma che stiamo a scherzare? Vi faccio vedere un bag Per vederle Lola Basta Cambiare rarità E vedrete Lola Nuovo brawler Che arriverà Nella stagione 9 Però Non la potete provare Perché vi dice Il brawler Senza Ad armamento Non è disponibile Io aspetto Una proposta Vi farò Un buzzopening Si E andiamo Se potenziare Qualche brawler Allora Che ne dite? Intanto Cambiamo la realtà Che a me Questa non mi piace La realtà Discendente Allora Vediamo Vediamo Che c'è da potenziare Se volete Che potenti Qualcuno Nel prossimo episodio Scrivetemelo Nel commento Sarei molto contento Io però Mi voglio Migliorare Stu Vediamo E ce la siamo Fatti al 9 E poi Dobbiamo Dobbiamo trovare L'abilità stellare Questo buzzopening Non abbiamo trovato Nel mio Schipo Luminoso Ci stava Dopo due buzzopening Un Schipo Luminoso Nel primo episodio E due Nel secondo E Bella a tutti Seguitemi E lasciatemi Lasciate like Iscrivetevi al canale Bella Ciao 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 Ciao